Sono molto lieta di incontrare già la prossima settimana tutti i ragazzi perché sono rimasta già l'anno scorso così positivamente impressionata dalla qualità dei lavori che ho visto. Luca mi aveva inserita nella giuria di valutazione e davvero mi sono sorpresa di quante cose anche con spunti originali, con qualità di realizzazione, i ragazzi delle scuole superiori sappiano già lavorare. Allora noi faremo naturalmente un salto in avanti quest'anno perché io sono fiduciosa nel fatto che non solo i ragazzi oggi siano dotati di grande accume ma anche di grande capacità di utilizzazione dei device. Questa strana condizione di sospensione delle nostre relazioni fisiche purtroppo ha portato soprattutto i ragazzi a impratichirsi sull'uso di internet, dei device, dei social. Ma noi dobbiamo specificare che il lavoro giornalistico, questo progetto si chiama Giovani giornalisti per l'Europa quindi noi non ci limiteremo a raccontare insieme. Quello che vogliamo fare è un salto di qualità perché essere giornalisti significa informare, è molto di più informare e presuppone come benissimo ha detto l'assessore Agabiti che io saluto se c'è ancora, ricambio il saluto e la collaborazione preziosissima per noi con la regione, è preziosissima ovviamente con l'Europa. Io sono convinta che i ragazzi hanno una proiezione verso un panorama sempre più internazionale, lo dimostrano gli scambi purtroppo in questo periodo limitati per forza, ma gli scambi non soltanto a livello universitario come Erasmus, ma anche gli scambi. Io per esempio 45 anni fa ho fatto un anno di scuola internazionale, allora dall'Italia partivano 100 studenti della mia età, l'anno era quello tra i 16 e i 17 anni. Adesso potenzialmente sono migliaia i ragazzi, le richieste sono sempre di più perché il nostro orizzonte, quello dei nostri ragazzi è giustamente sempre più aperto e sono sempre più curiosi, sono sempre più consapevoli. Quindi queste informazioni sull'Europa e europei non soltanto per programmi come quello che svilupperemo insieme già dalla prossima settimana con lezioni e confronti e sottolineo confronto perché io vorrei che le lezioni fossero più possibile interattive e già qui sollecito i ragazzi e anche gli insegnanti a mettere giù, buttare, preparare alcune domande e curiosità che io potrei utilizzare per i nostri incontri e per le lezioni. Due ore sono tante, io ho già preparato alcuni servizi da analizzare insieme, servizi che sono legati al territorio, sono stati preparati da una giornalista della TGR che ha ovviamente il polso della situazione del territorio, sono servizi che possono essere spunti di riflessione insieme. Ma volevo tornare all'assessore Agabiti perché ha usato due parole che non sono soltanto della qualità e dell'impegno dei giornalisti, ma due parole che sono un po' riassumono il senso del nostro servizio. Una è etica. L'etica è il nostro dovere. Il nostro dovere è essere fedeli alla verità, essere sinceri, essere onesti nel lavoro che facciamo e quindi osservare la realtà, analizzarla, confrontarci perché ricordiamoci che il lavoro giornalistico, soprattutto quello radio televisivo che qui sviluppiamo nella scuola, assieme agli allievi praticanti in modo specialistico, è un lavoro di team, è un lavoro di confronto, è un lavoro di sinergia. Quindi questo imparate che è il primo passo, guardare, osservare, analizzare insieme. Fare un lavoro che deve includere anche i vostri compagni di classe, perché tante teste funzionano meglio di una sola e si sceglie l'idea migliore e si analizza, ciascuno sarà destinato al suo ruolo più adatto e quindi ci sarà chi fa meglio le foto, chi fa meglio per esempio le riprese tv, chi racconta meglio, chi è più predisposto per fare le dirette e quindi provate, mettetevi in qualche modo in sinergia tra di voi e analizzate le specificità. Quindi l'etica è un nostro dovere. La libertà. La libertà è la seconda parola che ha usato l'assessore Agabiti, che deve essere sempre un diritto del giornalista e quindi battersi per la libertà di espressione, in qualche modo garantire anche agli altri, che la loro libertà deve essere garantita. Questi sono due termini che analizzeremo, che svilupperemo insieme. Preparate le domande, io sarò con voi dalla prossima settimana. Sono molto contenta che questo progetto si realizzi in un momento così difficile per la scuola. Sono convinta che i ragazzi a distanza soffrono, che la DAD sia penalizzante e quindi riuscire a fare un laboratorio di questo genere, includendo anche persone che, come i docenti, poi vedrete i docenti che sono a disposizione, che è riuscito a coinvolgere Luca in questa seconda edizione. Io sono convinta che vi aiuteranno a crescere, ma io ho grandissima fiducia sui ragazzi perché sento anche qui alla scuola quale qualità umana e quale tensione verso il miglioramento, quale idealità hanno i giovani oggi. Tante sono le difficoltà, ma le difficoltà temprano e quindi sono sicura che poi quando finalmente potremo rilassarci, tanto sarà stato acquisito anche in questo tempo così complesso. Grazie a tutti voi.